Attenzione volante 15 Pietro 5, la gioielleria, il proprietario ci ha chiamato al 113 Ma non sappiamo il motivo, ha chiesto solo di intervenire Pietro 5, la gioielleria Io tolgo una traversa di via di torre spaccata Ehi gioielleria Porta Maggiore, bambini ok Va bene, Porta Maggiore Autore, non partiti Partiti A Donato Menichella, cittico 148 davanti al negozio Ti stanno segnalando Nelle persone a bordo di una fiat del tipo di colore Bordeaux Con due arti in particolare che guardano nei negozi Vedi Grazie 148 davanti al negozio Mi stanno segnalando Che le persone a bordo di una Fiat Tipo di colore Bordeaux Con due antenne in particolare Che guardano i negozi Che guardano i negozi Che guardano i negozi